Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Ant Farm È da più di un anno che non facevo una serie sulle Ant Farm Questa mappa è uscita più o meno una settimana e mezzo, due settimane fa Ma ha riscoltato dei bug e per quello l'hanno stoppata Ed ora è uscita due giorni fa e ora hanno rilasciato il download E quindi l'ho scaricata subito e la faccio uscire ora praticamente Le Ant Farm sono state una delle serie più belle sul mio canale per quanto mi riguarda oltre al Minecraft Ita Di sicuro sono la survival più bella in assoluto Mi spiego per chi non ha mai visto l'Ant Farm Vi lascio qua sotto le playlist se mi ricordo per andare a vedere le serie dell'anno scorso Come funziona? Avete presente le teche delle formiche? Ci sono queste teche di vetro grandissime in cui dentro c'è la terra, ci sono tutte le cavernette delle cose E tu praticamente sei la formica Noi siamo la formica in questa Ant Farm e il nostro compito è quello di conquistare questa teca Ci sono diversi dungeon, in questa mappa in particolare che si chiama Ant Farm Corruption Ce ne sono otto, ci sono otto mega dungeon, poi ci sono dei dungeonini piccolini, delle caverne, delle ceste particolari Dovrebbe essere una cazzo di figata assoluta Ma vi dirò di più Anche nel caso non fosse figa come mappa Me la farò piacere lo stesso In onore delle Ant Farm e in onore delle serie delle Ant Farm per l'appunto che ho portato l'anno scorso Il bello è che si chiama Ant Farm Corruption E poi vai a vedere c'è scritto Ant Farm Non si legge assolutamente niente, è tutto viola e gira tutto, sembra Matrix Qua si è fatto tutto buio, intanto leggiamo se c'è qualcosa Allora guarda, ci sono otto mega dungeons Ci sono otto speed dungeon medals Ci sono tredici chest bonus E ci sono anche i crediti finali da triggerare, due che non sono di base Però si sta facendo tutto buio Non si può cambiare la game mode Divertirsi, grazie, mi piace come regola E direi di partire Qua non posso spaccare niente Begin Ant Farm Uuuuh ragazzi, uuuuh Ci sono i primi quattro dungeon In teoria sono cleans, forget, collapse and fall Sono i primi quattro degli otto dungeon E signore e signori Già così mi sembra una figata Non si vede la fine Non si vede la fine di questa mappa Allora dia di iniziare tantissimo Con la raccolta del legno Intanto, beh, come grafica Nel senso come organizzazione del mondo E cose di questo tipo Non mi sembra malvagissima Ci sono dei punti abbandonati Qui in fondo vedo addirittura un pollo Ci sono delle mucche Un botto di glowstone E qui si scende un bel po' Spero non sia come nella Sky Ant Farm Che si cade a ruota libera Cioè spero ci sia un vero e proprio fondo A questa cosa Tra l'altro negli achievement Nella pagina di download C'è una cosa che dice Libera e conquista il mulino a vento Quindi la cosa mi dice che questo mulino a vento Anche se è finto e non si muove Potrebbe essere riempito di spawner O di cose di questo tipo Ehm... Non si sa Non si sa Intanto io sto prendendo Primi log di legno Ehm... Non so Una cosa Questa è interessante Di cui parlare Non so come è gestita Dal punto di vista delle risorse Questa mappa Perché Abbiamo... Le abbiamo viste tutte C'era la Classic Ant Farm Che era messa Praticamente molto bene C'era la Sky Ant Farm In cui praticamente non c'erano risorse E sono arrivato alla fine Che hanno ancora la spada in pietra Se non mi ricordo male E ce n'erano tante Di questo tipo Ecco qui c'è un creeper Ad esempio Lo lascerei proprio lì dov'è Perché me ne frego altamente Qui c'è un... C'è un po' Un po' strano Non c'è molto All'interno di questo Mugino a vento Perché io non debba salire Che è anche possibile Aspetta ma queste sono rotaie Ecco perché Mi sembrava strano Queste sono rotaie E là si entra All'interno del mulino Che razza di figata E questo è il trenino Che fa ciuff ciuff Perfetto Lasciamo stare i creeper Perché non voglio che esploda Ehm Qui parte la rotaia Però non c'è assolutamente niente Ok Ok Però io avevo visto Della cobblestone Qui in giro Quindi direi di andare a prendere Subitissimamente Con un bel piccone di pietra Eh di legno Eccola qui Qua c'è un bel ammasso di pietra Bello Buono 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 Lì c'è anche un piccolo appostamento Dei iniziare Facendoci gli strumenti E poi cercando Tutto ciò che c'era a cercare Per l'appunto In questo mulino a vento Ecco una cosa che mi freme Avrò modo di farmi un letto? Ehm Non lo so Perché vedo mucche Vedo polli Però piano piano Il sole Sta andando a Tramontare Uh guarda c'è anche del carbone Forse riesco anche a trovare del ferro Sono abbastanza culo Ok io Volevo testare una cosa ma Per fortuna avevo ragione Stavo rompendo qua delle foglie Ho mandato un sapling Questo vuol dire che ho legno infinito Quindi posso andare proprio tranquillamente Prendere altri log E farmi ad esempio una cesta Perché voglio mettere da parte il carbone Voglio mettere da parte la cobblestone Guarda qui quanti sapling che mi sta andando Bravo lui Bravo bravo Grande genio Dacci tutto il legno Così con questi mi faccio una bella Cesta Questi li piazzo In modo che prima o poi Mi cresca un bel alberello Qua c'è uno zombie Usiamo il piccone Comunque se non ve ne foste accorti Sì siamo in 1.9.2 Ce la fa morire? È scarsissimo questo piccone E mi sta anche finendo Per prendere sta roba Ok sperando che il creeper non ci sia più Che sia despugnato per un qualche motivo strano Mi faccio la cesta Poi con i miei Sticchetti ci faccio ancora Un piccone Ok e una spada Perché mi sa che ne avremo bisogno Perfetto In realtà mi sa che mi faccio anche una pala Perché potrebbe essere comoda Ricordiamo che l'ant farm Essendo una teca per Formiche è pressoché Principalmente terra E poi preferisco usare la terra Che non la cobblestone Che potrebbe essere Una risorsa limitata Qui c'è un blocco Di clay Che non so a cosa possa servire Io devo essere sincero Non so se c'è davvero qualcosa Qui O se mi ha trollato Il creatore della mappa Se me c'è qualcosa qua in cima Ad esempio quanto è alto questo coso? Magari lì sopra c'è qualcosa Va bene per ora ce ne fregheremo Non altamente ma Insomma ce ne freghiamo abbastanza E andiamo a vedere invece cosa c'è qui sotto Qua c'è una sottospecie di gru Che è fighissima tra l'altro E su cui non riesco a saltare Qua si scende E oh mio dio Quanto cazzo è lunga questa cosa? E no raga No raga Brutta cosa Ah ok non posso cadere più di così Per un momento mi è venuto un colpo Pensavo fosse come nella Skyhand Farm Che si poteva cadere Ma per fortuna ci sono dei blocchi invisibili A protezione Ecco allora la prima cosa che farei E andare di qua dove vanno le rotaie Per andare a vedere cos'è che c'è Ce la faccio saltare lì E taglie Usiamo la pala Qua c'è una caverna Ok Ed è pieno di ferro Questa è una cosa molto buona Se me lo chiedete Però io non ho portato come torce Quindi non mi sento in grado di esplorare Sinceramente Una caverna E questo è esploso È esploso Tanta terra per me Ok Ad essere sincero non mi fido molto a scendere qua giù Quindi ecco quello che farò Mi prendo tutto questo bel ferro all'inizio Guarda quanto ce n'è Wow Mi faccio Prendo anche carbone molto volentieri Così mi faccio delle torce Allora appena arrivo sopra Mi faccio una spada Un piccone L'armatura Se ce la faccio Direi che con quei blocchi dovrei riuscirci Qua ce ne sono altri Spero che quello scheletro L'in basso a destra non mi veda Ok Prendiamo roba Sì Qua c'è ancora altro ferro Ci sono tre pezzi Qua Ah mi ha visto uno zombie Vabbè Scialla Non dovrebbe essere un problema Vi è c'è Vi è c'è Il problema maggiore invece Sarà il cibo Perché indovinate un po Sto già accorto E questo non mi piace Non mi piace neanche un pochino Allora vediamo come organizzarci Ritorniamo su Ritorniamo anche qua dentro Si sta facendo notte tra l'altro Ora facciamoci una fornace Che metteremo Cazzo sbagliato Mettiamo qui la fornace Ci mettiamo dentro ste cose E li cuociamo Purtroppo non ho moltissimo carbone con me Però in qualche modo faremo Ora vi mangerò questa rotta in flash Anche se non è molto Lo so E cerchiamo di passare questa notte Sono contento che ci sia questo cerchio Di Fuoco Accanto casa Perché in questo modo Siamo a posto Almeno un minimo Con i mob Intanto ammazziamo questa mucca Che a me mi da un po' di cibo Che poi posso andare a cuocere E sto vedendo se c'è qualcosa di comodo Potrebbe esserci tranquillamente una cesta qui Sono 13 ceste in totale Io Ce l'avrei messa qui Una bella cestetta Una cestina Nulla di tutto ciò Perfetto Sto facendo un giro lungo Sto facendo correndo Bravo Suri Come se tu avessi tutto questo cibo Davvero Buongiorno signor creeper Cazzo Eh sta per esplodere Guarda come esplode Oh in due no però eh Eh no In due no In due no Devo uccidere Quel creeper Prima che esploda Tu che cazzo vuoi Eh No 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 Eh minchia ho 63 mila colpi Allora io direi di sigillarmi qua dentro Sinceramente eh Per il momento almeno Così non entra nessuno dei lati Io sto bello sicuro Mi sto facendo il mio ferrettino Che per ora poserò Puntualmente Ok Arranciamoci come potiamo Come potiamo Possiamo Possiamo Facciamoci intanto la spada Che è la cosa più essenziale Poi Le torce me le farei io sinceramente Anche il piccone Perché non si sa mai Se troviamo dei diamanti Vuoi non poterli prendere Eh Ok Anche il piccone E a questo punto Con questi nove pezzi Che mi rimangono Io ho l'armatura Me la faccio Perché Semplicemente Non vorrei rischiare Secondo me Di morire Essenzialmente Che poi potrei morire tranquillamente Perché ora con quest'ultimo pezzo di carbone Vorrei cuocermi un attimo Questa roba In realtà no Non lo farò Piuttosto Vado a vedere Se riesco ad ammazzare qualche mucca Qua c'è un po' di esperienza Però Scialla Posso attraversare un qualche ponte Non c'è un ponte Non c'è un ponte Non c'è un ponte Perfetto Io per arrivare di là Devo fare un ponte a mano Che potrei fare in realtà Perché vedi che c'è una mucca lì E qua c'è uno zombie Complimenti Oddio no 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 Lo scheletro no Che sei scemo Ho tre cuori No 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 Iniziamo male Iniziamo male zio Allora calma un po' Devo recuperare vita In qualche modo Devo recuperare vita Non posso neanche suicidare Perché non siamo come una scaglia Tafana per l'appunto Potrei usare questo blocco di carbone Per quelle due bistecche E recuperare la vita E' un po' un overkill Ma scialla Facciamolo Tanto avendo il legno infinito Non è un problema Il carbone Ok con una bistecca Ce la stiamo cavando Ho recuperato quasi tutta la vita E ora con molta calma Posso cercare D'affrontare Quei due Maniaci Il cazzo Oh mio dio Ci sono più creeper Che scheletri Ah volevi Mi nasconderò qui Perché ho paura dei creeper Ah ti esplode Viena qui Viena qui Non ti voglio Vai via Vieni qua Vieni c'è Ok Non ho paura di te Per ora Questo scheletro Non l'avevo visto E il creeper invece si Non esplodere per troppo Per favore Ti voglio bene Ti voglio bene Oh Grande kill Grande kill Guarda per l'appunto Qui quanto carbone c'è Allora direi di illuminare un po' il percorso E vedere a che punto siamo Oh mio dio No Io li odio Gli scheletri Io li odio Gli scheletri Ah però ho un arco Con una freccia Non ho paura di usarla Oh almeno l'ho beccato Eh volevi Eh 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 Cazzo mi ha preso Ok è morto Sblocchiamo almeno un attimo Il visuale che si è buggata qui Io andrei verso Sì Oh mio dio È l'inferno questa cosa Dobbiamo Andare cattivi Dobbiamo andare cattivi È l'unica modalità O come si dice a casa mia A cazzo duro Senza futuro Boom Guarda ora come muoiono tutti Ah pure i villager zombie C'è un po' tantina gente Oh lo scheletro potrebbe essere un problema Finché non mi colpiscono Va tutto bene Vai vai Grande zombie che mi aiuti Grande zombie che mi aiuti Oh mio dio Quanti scheletri siete Pericolo Pericolo Mori Ah ah Ok Ok è morto Eh ma si vabbè Ma quanti siete zio Prima le torce Poi ammazziamo Il capitano Uncino Ho un cuore Oddio Ah ragno Ho un cuore Ripeto Ok la strada è illuminata Non dovrebbero Esserci mob Non dovrebbero esserci mob Va bene Come non detto Dammi la rotta in flash Ok qua è pieno di mia roba Ed è pieno anche di un ragnetto Abbastanza incazzoso Che dovrebbe morire Da un momento all'altro Perfetto Ho recuperato tutta Oh mio dio Non mi ha visto quel creeper vero Non mi ha visto Non mi ha visto bene Recupera tutta la mia roba Per favore Grazie Ah di qua c'è un'altra uscita O entrata Dipende dai punti di vista Ho preso tutto Ho l'armatura Ho questo Ho questo Il cibo L'ho finito tutto Quindi si Scialla Ok Ci siamo E qui Cos'è che c'è Niente Semplicemente un'altra uscita Però lì c'è un botto di ferro Lì ci sono Ah eccolo il ponte Con la ferrovia Ok Ok ho capito la situation Qua è anche pieno di ferro Prendiamo questo ferro Va bene ragazzi Va bene Io direi che per questo primo video È tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Mi raccomando Lasciate tantissimi like Per il ritorno Della Hunt Farm Ci vediamo Nei prossimi giorni Con il prossimo episodio Io qua Apriamo tutto questo ferro Lo riporto a casa E penso Lo cuocerò E niente Io vi saluto Ciao Duru duru dutte Duru dutte Duru dutte